Yugi e tutti duellanti ben ritrovati sul canale oggi siamo qui nuovamente insieme a Buzz che ci porta la sua deck profile di superivi samurai che bestia questo bel preset di cui non lo inquadra abbiamo due sono giapponesi e una italiana, una simpatia ci andiamo così a nazio, a cazzo duro non è arrivata in tempo ma per il nazio si spera che arrivano in lingua umana anche perché sennò te becchi la squalifica primo round una simpatia di deck check primo round, bella giappo, bella bella detto questo ovviamente prima di iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da jackstore il mio store di prodotti coreani quindi se vuoi giocare all'evento di edison eh portiamo questi all'evento di edison dritto per dritto maestro armatura alla nera in coreano che esce da crimson crisis cioè ulti allora ci può piacere, può essere un'altra roba interessante ci piace, ci piace black queen col maestro ulti, tanta roba trovate il link del loro store qua sotto in descrizione inoltre se volete liberarvi di carte di yugi, magic, pokemon, dragon ball, one piece, forza wheel e digimon ci può fare qualcos'altro abbiamo finito spero che non c'è altro però se c'è lo mettiamo trovate il link del mio instagram qua sotto in descrizione contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare ora vai, io me lavo da coglioni allora il mazzo, vabbè tanto ormai penso che buona parte di voi lo conosceranno è forse il secondo mazzo più giocato adesso dopo cash tira sicuramente ha fatto tante top quindi il mazzo è famoso non c'è molto molto da spiegare main alla fine ha fatto la lista più standard possibile con la spezia si aggiunge in base ai gusti quindi partiamo 3 per di tutti gli starter adesso vediamo cosa fanno al volo alla fine tutti quanti adano uno qualche modo bicicletta si scala, bike si scarta da uno wakao scivai scala speciala se stesso porta questo brick qua che poi comunque ha da uno anche se soul balestra ha da uno e vagone ha da un soul quindi tutti quanti fanno full combo protetta da barone e sopra bene o male generalmente due ht deboli diciamo contro sto mazzo quindi ash, perma, veiler, mourner e ne tankate due anche ogre qualche volta altre ht fanno un po' più male però con le mani forti andate soprattutto due brick perché è necessario il secondo se lo pescate vi sparate non parte più wakao sci e soprattutto tante volte se partite tipo carta subottimale che non è starter più uno di questi comunque fate combo una braccia tutti brick brick po' sono tutti forti questo tributo a uno speciale a uno da mazzo che porta al secondo che quando entra reborn a uno nelle line questo serve a togliere link uno che se no non può essere linkato via e quindi ve lascerebbe la zona extra boccata ma in generale a differenza di quello che avete detto online tutte le combo ah one card combo barone regulus appolla extero tutto quello che volete ma la roba forte del mazzo non è aprire monocarta dammi aprire una mano e cercate di giocare intorno il più ht possibile con la mano che vedete e queste servono tutte questa è la branda sopra barone ah nibiru sorry per far barone sotto nibiru protetto e vi aiuta perché non sempre riuscite se no a continuare dopo che siete presi nibiru anche se ci avete comunque barone questo è un extender necessario per casoul e queste due nonostante usate nella combo andando da primi spesso vi aiutano tantissimo da second tante volte si aggiunge scales l'oppo c'è due mostri si speciala gratis reborn a uno vi permette di continuare da combo soprattutto se prendete tipo gamma sul linkuno ogre sul sul benkei comunque poi vi aiutano a pushare parecchio un po' di carte che so diciamo denji ma non so staple che non so l'archetipo questa che si aggiunge poi con la carta d'extra che penso ormai tutti con sciate balista può aggiungere un mosto con 500 attacco difesa macchina a terra il target forte da noi ancora non è uscito si chiama con staple ed è un super heavy che è uscito in vjump quindi in shonen jump quello che cazzo è quindi toccare l'hp nel mentre che non c'è si arrangia la gente gioca questo che è solido è un extender che si speciala tributando un macchina a terra tante volte vi fa comodo togliere un altro linkuno da board se avete fatto doppio linkuno per giocare sopra a droll o in base alle line e una volta che sta a cimitero si bandisce rimischia 5 macchina a terra e pesca 2 quindi vi aiuta anche pesca ht e mazza pieno e questo che non è gate in più qualcuno gioca al kaiju poi dopo parliamo alla fine l'ht quelle d'obbligo questa è l'unica ht che diciamo non potete non giocare non importa qual è la versione della lista per mettere sopra a droll se l'oppo gioca male per mettere sopra a tante ht se l'oppo gioca male in generale tanto solida poi c'è 3 droll questi vabbè generalmente l'ht più forte del format in questo momento però come tutti i mazzi che vanno a base d'ht queste non so fisse sono diciamo dipendenti appunto da cosa è incontrata in meta cosa è incontrata al local al regio al pocket meta poi le core stanno a voi generalmente qui ci sono le più stabili però non è detto diciamo che le prime tre le giocherei un po' ovunque poi le altre d'hp quindi sicuramente gamma droll e hash questa vabbè è forte contro branded fusion è il motivo per cui qui però c'è un uso molto specifico c'è di rallenta gamma qualche volta andate i primi la fate sopra gamma perché sennò vi ferma all'incuno siete al bar e sta roba è veramente solida oltre comunque a essere un ht generica poi ci sono altre ht a caso quelle che penso siano forti sto meta personalmente ma potrebbero essere anche altre e i nib sicuramente decente murner sopra veiler perché un sacco decente adesso può giocare in draw e comunque anche nel vostro turno male con tante line the despia e pure rigioca tutto in draw e vabbè super heavy non cambia niente tra le due e poi ogre perché decente sia contro questo che contro pureri e quindi state stabili generalmente uno slot in più potete dedicarlo all'engine le opzioni sono varie qui ci può stare un altro braccia che è sul peacemaker qui c'è una seconda coppia di sul peacemaker diciamo l'ultima carta potrebbe essere il kaju macchina potrebbe essere un altro regolus che comunque è molto decente per andare sopra a draw potrebbe essere un'altra spia un altro scales potete giocare 2-2 se il meta vostro è prima dei cash tira c'è per paura che se ve lo bandano poi non fate combo diciamo che in generale se ti bandano certi pezzi combo è più difficile ma seppur all'arrangiata si fa e poi l'extra allora due link 1 la carta più forte dell'archetipo forse insieme sul piercer e wakowshi scarta 1 reborn nella zona in cui punta due note particolari la prima fatelo sempre a sinistra perché se dovete fare il secondo poi ci avete e questo lo portate via di braccia almeno l'altra zona è libera per genio questo è un reminder a caso ma molta gente vedo che lo missa quindi ricordiamo l'altro è importante è the scare claw proprio perché c'è caccia di remetta si potrebbe fare la call di gioco al terzo perché se ve ne bandano uno magari con una mano da seconda e merda non partite spoiler però la mano bene o male partono quindi due bastano è una carta forte e c'ha l'effetto segreto che non fa prendere danni in battle perché la gente di tanto ci perde a caso perché c'è però chiude e non lo sa balista ha da due è fortissima vedo i body e niente di più in realtà comunque una carta solida genio che è la carta con cui ha date regolus c'è sia questa che sargas lista lista io il secondo target di genio non l'ho messo che è il kaiju di solito che è questo questa qui come nota alla fine che è questo tesoro qui molto spesso la gente gioca sia questo che regolus perché così fate date uno di questo di genio sargas con sargas date regolus però personalmente non vedo il motivo da darlo da primo contro pure se fate la full combo generalmente potete vincere tranquillamente è difficile che vi ci va sopra ed è conseguenza darlo da primo il kaiju mi sembra superfluo e da secondo cioè se lo pescate bene ma sicuro non è arrivata fapendola sotto kreeford genio una polla per la board e poi un link 2 generico questo può essere lambda può essere aussa può essere tante cose aiuta ti aiuta a togliere il token denibiru qualche volta che ti fa comodo poi prendola c'è lambda ovviamente perché qui gamma da primo ci sono delle line in cui fate anziché fare tipo prima mari barone o prima altra roba se siete ci avete un gamma in mano volete proteggere la com potete anche fare lambda sotto sotto il link 1 dopo che avete ribornato mi è capitato più volte comunque la carta è solida aussa d'altro canto invece è forte perché prende vabbè prende ferrir e quindi ovviamente poi lista vuoi decidere mono di questa perché sotto shifters non fate assolutamente niente l'engine che vi permette di prendere sargas ma anche l'engine forte per far zeus ovviamente da second tante volte per andare sopra tipo cash tira tutte queste robe qui questo è il modo più facile perché sennò se vanno i pezzi voi vanno ad andare al cimiterio comunque siete diciamo al bar visto che il mazzo è stranamente tanto graveyard e infatti soffre cash tira una roba finta axel e barone che li fate nella combo per fare barone protetto generalmente con la bicicletta e la cosa interessante è che si può fare anche con gamma sta cosa perché axel è born a gamma quindi tante volte magari se non volete andare sotto droll e avete una mano con gamma scarate gamma dell'incuno e quando si ingrate è born a gamma così che non dovete aggiungere di bicicletta per droll e fate dopo borrel savage altra carta sempre per droll la usate da primo saprite braccia quindi sul peacemaker qualche volta a fine board e non negate in più quindi è forte in entrambi i casi questa cosa bellissima salutobi potete fare quando siete lockati con il secondo effetto dei wakaoshi cosa che generalmente non si usa ma qualche volta contro mazzi contro l'aiuta o a fine board ed è un tifone rapido niente di più però attacca in difesa quindi intanto al zabagusca facilmente tifona un sacco dei mazzi contro fa un tifone nel vostro turno uno nella loro draw è solido e brucia 500 ogni volta che tifona quindi in tempo ve lo fate sulla vostra scala e brucia 500 e l'ultimo slot è generalmente libero più c'è un sacco di roba è forte il secondo zeus è forte il gigantex per quando pescate la scatola però quello che io ho deciso di giocare per ora è stardust perché la line base magari ve la faccio vedere semplicissima dopo se vi beccate nibiru con questo avete un barone diciamo un barone in più senza avete tradato il vostro barone per il loro nibiru che è uno per uno e ci può stare ma finché mi posso permettere di giocare un brick adesso va così se ci sarà più cash tira in presenza per i vari eventi magari potrebbe diventare interessante giocare il secondo zeus o giocare potrebbe esserci access code qui queste varie cose però forse probabilmente la più forte è il secondo zeus o kiri gigant che vi aiuta uno per quando pescate scatola e l'altro contro cash tira facciamo una line anzi prima di fare una line l'unica cosa vabbè questo ve l'ho detto potete giocarlo dei main è forte anche dei side non è bruttissimo se siete contro pure rigido i g3 andate primi la date così che la recovery sua è finita perché io la fate sul noir e avete vinto però l'ultima cosa da parlare è questo l'engine che c'è anche un engine con ibly simile a questo intanto ne parliamo di entrambi ma questo un po' più solido carta da sideare è post side da primo se date questi due al posto di generalmente o un ht o qualche volta potete togliere tipo vabbè togliete un ht di fondo dai per questa cosa qui c'è una line in cui si può togliere regolus ma non ne vale mai la pena togliete un ht per spellcanceller e apolla per sariuja fate la combo normale fino a che non pendolate pendolate sottogeno in generale da questo fate sarga sarga sadaregolus fate tutto poi con 4 da 4 fate sariuja se avete una mano forte riuscite a fare lambda con tunneler e genio e poi fare comunque sarga da 4 quindi pescare prima di tunneler e poi di sarga però generalmente è indifferente pescate con sarga vi scolpite la mano d'ht questo va sopra ruler droplet spoli beh comunque queste cose qui più ferma un sacco dei mazzi come runic ferma despia ferma se beccate più reri comunque solido non fattiva il pendolo nel mirror che non è scontato però il fatto che vi scolpite la mano d'ht è assurdo perché ok fate con ternege giveramente barone sarga se questo qualche volta c'è la quarta con axel borrel savage ma è praticamente impossibile fa la quarta sotto starline qui però se vi prendete palle di rà prendete lava golem vi prendete quello principalmente sopra vedete tranquillamente se avete tipo 3 4 ht e start in mano e cosa che alternativamente con la combo normale anche con 3 omni più a polla se ti fanno palle ti togli le 3 omni c'è un mono a polla e non c'hai le ht in mano esplodi allora vediamo la combo base e la più semplice di tutti è uno starter più discard deve essere mostro ma tanto il mazzo non c'hanno mosti quindi ok i starter giocano sotto roba diversa bicicletta quella che gioca bike sotto nibiru questo gioca bene sotto bene o male tutto ma soffre ogre vagone soffre ogre e balestra è quella più solida diciamo prendo questo perché è il più semplice ma è in realtà tutto uguale tutti giocano male sotto drol però nello specifico bicicletta gioca bike gioca peggio degli altri perché con bike più altro se dovete attivare effetto di bike non fate niente sotto drol generalmente invece con gli altri starter qualcosa arrangiate comunque mettete in scala fate effetto si speciala e mette 1 in scala mette prima in scala quindi se l'altra scala è bloccata c'è già il pendolo non si può attivare questo ha da 1 sul piercer normal fate link 1 e sul piercer adda e qui date bike poi fate effetto link 1 ripornate scartando driver fate effetto bike bike si scarta aggiunge 1 generalmente l'ad è prima sul peacemaker poi spia se non dovete fare gear gigant ex e infatti sarà in gioco mai sotto nibiru chi gioca gear gigant di extra al posto di ballista apposcendo allo slot in più qui ada prima queste poi direttamente sul taga booster adesso fate sincro ora parte c'è il link 1 2 indifferente o star da sto balesta non cambia niente e c'è il link 3 wakaoshi di tornare in scala così invece imbloccate la linea comunque è molto clean se sono tenuti hash magari avete starato forte ok per il resto diciamo che c'è imbloccata primo è poco influente è importante c'è imbloccata secondo qui è andata a prendere in questo caso spia gioca meglio sotto nibiru infatti può farci da cosa serve star adesso ora l'hop può scegliere quando calare nibiru perché in teoria la summon di stadas è la quarta generalmente non c'è nessun motivo di farvelo adesso prima che risolve la catena perché se risolve torna bike e quindi potete equipaggiare braccia bike e fare comunque combo cosa che non c'è un grande pay off a farlo prima quindi generalmente quello che si fa è si aspetta qui appena risolve catena risolta si cala nibiru e questo è il motivo per cui gioco lo stardust base c'è questo spot specifico perché io dico se l'hop fa nibiru fate effetto di questo portate l'altro stardust sincrate il reso fate barone nibiru risolve barone è un effect fino a fine turno quindi non ve l'ha tributato il link 1 può andare a fanculo tanto c'è te spie in mano e fate un addino in meno ma siete stabili nella line normale se dovete aggiungere un gear gigant non si può fare perché qui ci va il sol gaia booster per fare doppio add quindi quindi questo e anche perché normalmente ponendo che vi lasciate risolvere e ci avete spia cioè è identico se qui vi beccate nibiru e poi fate spia e continuate ovviamente se non c'è non c'è barone sotto nibiru però siamo siamo lì diciamo la differenza è impattante però è che ci avete difficoltà grandi a togliere il barone il nibiru da 3k che vi ho sopra la sargas e quindi dovete giocare unicorno se no se giocava quando giocava access code che è ok anche quella come line però piuttosto che fare questi sacrifici devi giocare unicorno però comunque siamo lì poi comunque qui tirate fuori il barone si equipaggia questo da mana link 1 tributa per costo portate scales questo entra reborn a 1 reborn a balestra link 2 qui c'è imbloccate sempre con sol piercer 1 non c'è lo spot in cui la gente fascia a questo punto è quasi impossibile ma se se la tengono perché hanno paura di chissà cosa comunque la scatola non è importante è importante la di scatola quindi comunque la possono fare nello spot successivo e quindi non cambia niente quindi a date questo è generalmente vagone ma poi indifferente cosa già date e poi con la scatola date infinitrack special spia link 2 genio e poi pendolo in questo spot se avevate un qualsiasi mostro in mano qui una qualsiasi ht una cosa interessante che potete fare mettiamo che c'era un ogre poi c'era un pelo diversa potete aggiungere un altro sul piercer c'è un altro walkhouse anziché vagone pendolare questo pendolare l'ht qui parte diciamo il reso parte effetto di genio che vi adda l'altra interruzione in realtà se volete potete farlo anche senza l'ht c'è la line ve lo faccio vedere che è più semplice fate special terrain poi vi spiego anche perché non mi fa impazzire addate questo effetto barone su soul piercer si spacca adda un altro adda l'altro extender ora qui se avete un link 3 potete fare link 3 io come ho detto riesco a giocare a stardas quindi non la faccio però idealmente ponendo questo sia tipo unicorno un'altra cosa che potrebbe essere forte giocare questo si speciala e si equipaggia poi si speciala qui fate sincro borrel savage Attaccate link 2 sotto ovviamente per Quale c'è più attacco E qui poco link 3 E questo fate a polla Nella line proprio base 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 Appunto senza link 3 Ho pendolato un mostri in più E quella è una possibilità Oppure semplicemente giocate appunto un link 3 per fare la line così S9 sarà appunto un mostri in più ma uguale Io generalmente presco non fa la line che fa anche Borrell Savage Se posso aggiungere coveri generalmente meglio Perché di baroni volete spaccarvi questo Ben K Perché se no nel turno dopo non potete attivare di nuovo Wakaoshi Siccome è difficile che vi alzano Cioè se sopravvivete un turno in 3 Vi alzano tutta la board Più vi spaccano Wakaoshi Più la recover in mano Anche se vi alza proprio tutto 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 Modendo che a fine combo avete aggiunto Non lo so Un vagone No vagone no Bike generalmente Tant'è difficile che ci hanno un altro droll Se non l'hanno fatto a turno 1 Che avete aggiunto bike Potete sempre fare bike Addo Wakaoshi Metto Wakaoshi scala Per sopravvivere Se invece l'altra scala è bloccata Non si può fare Quindi per quello non mi piace spaccarmi il pezzo solo dei baroni Però se siete tipo G1 Conoscete Mari Local eccetera Fananeghetti in più Il punish è piccolo Oppure se siete da mano forte Non c'è punish E va bene ragazzi Il video finisce qua Spero come sempre vi sia piaciuto Fatemi sapere qua sotto con un commento Se volete qualcos'altro da base Speriamo Ogni volta lo dico Ogni volta c'è torno E niente Detto questo Statemi easy E noi ci rivediamo domani Sempre qua Con un nuovo video Ciao a tutti